Si sono concluse nei giorni scorsi le riprese del cortometraggio Usura del regista Vincenzo Procida. Il progetto prodotto da AR Production di Arezzo è completamente ambientato a Ponte Cagnano-Faiano e vante il contributo artistico del canto-autore genovese Francesco Baccini con le sue musiche e un cast di eccezione. Tra gli attori principali infatti ci sono Danino Brugia, Massimo Bonetti, Francesca Luce Cardinale, Luca Mannocci, Cinzia Littra, Che Coloria. La trama del cortometraggio è incentrata sul personaggio di Matteo, imprenditore che sommerso dei debiti finisce nella piovra di un usuraio e non riesce a venirne fuori. L'usura diventa soprattutto psicologica, un racconto ricco di colpi di scena con un finale a sorpresa che accende un faro sulla riflessione come spiega il regista Vincenzo Procida. La storia nasce da un percorso di un paio d'anni, era una sceneggiatura che avevo conservato nel cassetto da un paio d'anni, poi ho avuto la fortuna di conoscere Gianni Pagliazzi, il produttore che mi ha interamente prodotto l'opera e che si è praticamente innamorato di questa storia e della città di Ponte Cagnano-Faiano dove ha deciso di girare e ambientare totalmente la storia. Vogliamo dire un po' il cast? Danilo Bruggia, Massimo Bonetti, Francesca Cardinale, Cinzia Letter, Claudio Loria, insomma sono davvero tanti gli artisti professionisti che hanno deciso di venire a far parte di questa storia. La trama un po' si può raccontare? La trama Sveliamo Poco racconta di un usuraio matto che presta dei soldi a questa persona interpretata da Danilo Bruggia al quale farà delle richieste un po' strane, che non è il classico quando uno parla di usura e vai a fare una rapina, vai a fare un cattivo servizio, ma farà una richiesta veramente pazza della serie vai in città, vai a assaggiare tutte le torte della città, portami la più buona, però mi raccomando non sbagliare. La grande sorpresa è stata quella che il grandissimo cantatore italiano Francesco Baccini ha accettato di realizzare gratuitamente le musiche per questo cortometraggio, io pensavo fosse uno scherzo, invece Baccini in queste ore è proprio alle prese con le ultime modifiche per la colonna sonora di usura. Ora quale sarà il cammino, dove sarà possibile vedere usura, quali sono anche i progetti futuri legati a usura? Sicuramente ci sarà una proiezione per la stampa salernitana, credo che la faremo in un cinema qui tra Ponte Cagnano e Salerno, poi vorremmo organizzare una premiere in piazza con tutto il cast qui a Ponte Cagnano-Faiano, e incrociamo le dita, parteciperemo a importanti festival nazionali e internazionali, e poi vedremo cosa succederà, magari diventerà una fiction, chissà, incrociamo le dita.